C'è stato carissimi amici, un errore madornale, però è finita così ugualmente al centro dell'attenzione al programma L'Isola dei Famosi e ha lasciato tutti totalmente di stucco. Successivamente in tanti hanno ironizzato a causa di questa, che possiamo definire, gaff veramente incredibile, che ha messo in imbarazzo non soltanto il reality show di Larry Blasi ma anche un altro programma. Tutto è successo nelle ore scorse quando era prevista la pubblicazione di una cosa che non riguardava però l'Honduras. Sono apparsi diversi commenti in web, anche se poi dopo è stato cancellato tutto, ma ormai era troppo tardi. Nonostante l'intervento, ormai la frittata era stata fatta. Dal profilo dell'Isola dei Famosi 2023 non è arrivata nessuna precisazione sull'errore, ma intanto la notizia è stata diffusa ovunque. A fare chiarezza è stato il sito Davide Maggio, ma anche la nostra TV ha confermato la stessa versione. Una defiance sicuramente non gravissima, però il rischio è che qualcuno possa essere rimproverato severamente per questa disattenzione che poteva essere evitata. Praticamente l'Isola dei Famosi 2023 non c'entrava niente, ma questo errore ha coinvolto un'altra trasmissione che tra l'altro non è nemmeno di Mediaset. Bisognava pubblicizzare questo programma di Sky 1, ma all'improvviso sui social è apparsa un'immagine dall'Honduras e una scritta che faceva riferimento ai naufraghi. Un'anticipazione sui concorrenti che doveva essere pubblicata probabilmente sull'account Instagram dell'Isola, ma che invece è finita altrove. Sui social di Pechino Express è apparsa la seguente scritta. L'arrivo di intemperi e le varie polemiche generano nuove tensioni su Playa Tosta. Guarda il daytime alle 16.40 per scoprire cosa è successo. Nonostante l'eliminazione del post errato, c'è chi era riuscito a fare lo screen e lo ha pubblicato dappertutto. La GAF sarebbe nata perché la società Banigiai produce sia l'isola dei famosi 2023 che Pechino Express, quindi qualcuno avrebbe commesso un errore nell'accesso agli account. Intanto, sarebbe rientrato il caso legato al presunto addio di Enrico Papi. Dopo le polemiche in seguito all'ultima puntata, pare che sia stato ripreso da alcuni autori ma resterà saldamente al suo posto, insieme all'opinionista Luxuria. Cari amici, per questo video è tutto, vi ringrazio per la visione, mi raccomando lasciate il vostro segno qui sotto, un bel like e se non siete iscritti iscrivetevi al canale oppure seguite la pagina, è tutto gratis. Vi ricordo che in questa pagina si parlerà di gossip tv, spettacolo, politica, sport, curiosità e tanto altro. Detto questo vi saluto, mi raccomando vi aspetto al prossimo video, ciao, un saluto da Max.